ciao e benvenuti in un nuovo video scusate il rumore delle cicale ma siamo in estate e ci sta allora oggi vi voglio parlare dei prodotti di sol de janeiro questa linea è quella fortificante e lisciante ed è profumo cerosa 62 che io adoro so che esiste profumo per corpo e capelli del assolutamente trovarlo perché sono in partita per il profumo ma oggi invece vi parlo dei prodotti per capelli perché sol de janeiro è un marchio brasiliano ed è in vendita un po ovunque online quindi si forà ed è esos, zalando, look fantastic quindi questo è un set travel sites ma ho provato per bene i prodotti e adesso ve ne parlo allora intanto prima di tutto il foglio alla mano perché mi sono segnati i prezzi perché devo dirvi anche questi giustamente partiamo con lo shampoo che è questo shampoo con olio di cocco brasiliano e buriti fruit oil è questo qui questo è un travel sites da 90 ml che è un formato vendita ma a 3 dunque 90 ml 13 euro 295 ml 25 euro ovunque scontabile allora shampoo che ne basta poco fa una bella schiuma lascia questo profumo fantastico durante l'utilizzo e si sente anche un po sui capelli dopo l'uso oltretutto dice di essere rinforzante ed è lisciante più che altro ho trovato che lascia i capelli pettinabili gestibili non secchi non li unge e non fa non tende a renderli più a far spoccare più velocemente quindi trovo che sia un prodotto assolutamente valido ne basta poco si massaggia bene fa una schiuma che è paradisiaca mi siete sparite eccovi qua perché parte lo screen saver dopo l'aggiornamento della fotocamera parte lo screen saver così come se fosse un telefono non facciamo più domande ed è sì sì assolutamente non è proprio da tutti i giorni ma soprattutto in estate a mio avviso uno perché ha un profumo tropicale che è fantastico e poi perché comunque quando non vado infatti vedete che siete raccolti quando non li vado a lisciare con la spazzola e il phon e la piastra questo aiuta aiuta non fa miracoli non li liscia però li rende più docili di stricati ed ovviamente questo è solo il shampoo poi ci sono andati i trattamenti ma se già questo non appesantisce e funziona bene perché no andiamo avanti l'appoggio qui se non cade ok perché abbiamo anche il bassano sempre stessa cosa eccolo qui sempre 90 ml 13 euro 295 ml 25 euro allora a differenza di tanti altri bassano che dico sono blandi questo ne basta poco lasciate agire sulle radici e sulle punte non sulle lunghezze e punte non sulle radici intendevo dire perché un po tende a lisciare i capelli e potrebbe appesantirli ma lasciate agire lunghezze e punte il tempo della doccia quindi il tempo 3-4 minuti il tempo della doccia poi si rimuove si rimuove molto facilmente ed oltretutto mi piace lascia i capelli districati facili da pettinare abbastanza morbidi non sa che cosa ma comunque più morbidi di tanti bassano in commercio oltretutto mi lascia più lisci e non li appesantisce non li fa sporcare non li unge mi piace davvero tanto mi è piaciuto questo stessi però che dico cavolo mi è piaciuto non so se ce ne sono altri in commercio cosa ma se sono dati più o meno ai miei capelli penso che questo me l'avevano inviato ma penso che senza problemi lo acquisterei perché mi sta piacendo e poi utilizzati singolarmente quindi solamente uno shampoo con un altro tipo di balsamo oppure tutta la linea lascia questo profumo che comunque si sente anche sui capelli e a me piace piace davvero tanto ultimo prodotto che vi mostro oggi sarà un video abbastanza breve ma poi poi chiacchieriamo un attimino questo è la maschera con triplo burro brasiliano allora è questa che è un 75 ml è fatta così cosa che ho apprezzato moltissimo non so se è una cosa particolare o no questa zigrinatura ok metto a fuoco questa zigrinatura che ha perché con le mani bagnate non è sempre semplice svitare i barattoli con questi pallini è molto semplice non ne basta aspettate questo è un 75 ml che è formato vendita 13,95 euro se no il full size 238 ml 31,95 euro sempre pezzi scontabili un po' ovunque o con le offerte allora non ne serve tantissimo è una crema bella corposa questa è la più profumata di tutte sempre sulle lunghezze e sulle punte questo lascia agire 5-10 minuti tranquillamente il tempo della doccia si rimuove facilmente e lascia i capelli zanzara belli morbidi belli questa è proprio una coccola belli morbidi belli facili da pettinare anche dopo se per caso voglio asciugarli all'aria non diventano ma semplicemente sono un po' mossi e non li appesantisce non li unge non li fa sporcare più velocemente a me è piaciuto mi è piaciuto davvero tanto trovo che questa linea di prodotti sia davvero a mio avviso fantastica oltretutto dice che ha eccola qua cheratina vegetale che è sempre molto bene ai capelli e quindi perché no ed è mi piace è un set davvero molto valido che mi è piaciuto e ho apprezzato davvero tanto il poterlo provare anche perché ripeto mi sono innamorato innamorato innamorata di questo profumo che si sente bene ed è e mi piace soprattutto è molto molto estivo proprio tropicale mi piace allora dato che il video è già finito se chiediamo un attimino come va questa nuova postazione così penso che per oh ma le zanzare non mi lasciano in pace eppure ho l'autani perfetto eppure visto il problema di vicini e poi dicevo ci sono le cicale ed a casa allora in esterno ed è magari fanno troppo rumore vengo qui nel bosco si è benissimo questa pancina ma dietro c'è tutto è bellissimo mi piace ok mi piace è il mio bosco sto bene fuori dal mondo proprio e quindi provo a venire qui magari riesco un attimo a registrare i miei video perché in settimana non c'è nessuno se ci vengo il sabato e la domenica è impossibile ma in settimana non c'è nessuno perché non è mio non è mio è di un nostro amico ed ho detto ma magari qui non ci sollecitare non è vero però l'alternativa è che comunque verso sera al massimo qua ci troviamo dei caprioli che ci passano dietro dei cinghiali non abbiamo il problema di vicini non lo so farò un po' qui un po' casa perché qua che la tende alla macchina poi non è proprio vicinissimo però non mi creo con questi problemi ed è devo trasportare mezza casa perché tra le cose da recensire e la telecamera e il microfono e le luci in trucco sono sempre torta di roba trasportare ma si fa non c'è problema perché per il periodo estivo è così perché per il periodo estivo non ci penso proprio ad mettermi in casa con le luci non ci penso proprio ed è volevo continuare a fare qualche video così un po' un cacchericcio un po' per mostrare i prodotti mi piace l'idea e niente a questo punto ed è spero di avervi tenuto anche un po' di più in compagnia fatemi sapere se questo linea di prodotti l'avete provata come vi siete trovate e se vi piace il profumo fatemelo sapere e niente io vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao